Rifiuti incendi e auto danneggiate e fuga di massa da un caseggiato di Carrara di Fano dove vive anche un gruppo di Roma. La Guardia di Finanza controlla persone, veicoli locali e distributori stradali, scattano denunce e sequestri. Un ristorante completamente sconosciuto al fisco, scoperti quattro lavoratori in nero. Il waterfront di Sassonia non sarà ultimato, l'attacco di Gianluca Ilari della Lega che punta il dito contro i lavori pubblici. Il progetto è incompatibile con il transito delle imbarcazioni e dovrà essere rivisto e modificato. Elezioni amministrative 2024, il centrodestra ufficializza la candidatura di Marco Lanzi a sindaco di Pesaro. Concorso nazionale di poesia all'arte in versi, il fanese Elvio Grilli vince il premio Cultura 2023-2024. Calcio con l'Alma Juventus Fano, ginnastica ritmica con l'Aurora Fano e kickboxing con il campione del mondo Jordan Valdinocci. Questa sera su Fano TV torna sportissimo. Nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia, benvenuti sul canale 19 di Fano TV. Apriamo con il servizio realizzato da Marco De Rico in un casolare a Carrara di Fano dove i residenti denunciano ormai da tempo la situazione incresciosa in cui sono costretti a vivere tra rifiuti, incendi e danneggiamenti. Sentiamo. E' fuga di massa da un caseggiato nella frazione di Carrara dove vive anche un gruppo di Rom. La situazione è a dir poco sconcertante con rifiuti abbandonati ovunque, incendi, auto danneggiate e persino la presenza di pezzi di parti meccaniche di auto e altro materiale sparso nelle campagne circostanti. Prima sono venuti qualche assistente sociale a vedere quel quaderno per vedere cosa dovevano fare quello e quell'altro. Poi dopo si è fermato tutto. Inutile accomodare. Dopo rilombero. Allora prima bisogna mandare via questi qui e poi dopo si comoda perché tanto siamo doppi da piedi. Anche se vedono quello e quell'altro. Anche qui loro le denunce ce ne hanno i barili. Che furto ha subito? Quanto le hanno? Mi ha fregato 250 euro che avevo qui nel borsello durante la notte. Io dormivo e io non ho messo il catenaccio. Mi sono venuti a prenderli. però non posso dire chi è perché non l'ho visto. Ha fatto una denuncia comunque. Sì ma non fanno niente. Ha detto qui la denuncia, ha detto non possiamo farla perché ha detto non c'è, a chi la facciamo questa denuncia? Lei non ce l'ha alla telecamera? Io faccio l'appello affinché prima possibile mi dassero anche scalcinato. L'importante è che vado via da qui perché qui non si può vivere così. Adesso ne vanno via altri due e che rimango io solo? Qui le cose sono due. O mi danno una casa o mi tocca andare a pagare l'affitto perché non è possibile vivere in questo modo qui. E lei se lo può permettere di pagare l'affitto? E cosa prendo? Prendo 500 euro e cosa prendo? Prendo un po' di inclusione per rotondare e basta. Se mi danno un po' di inclusione vuol dire che l'affitto sono stato dietro un fratello che ne era al 100%, ha detto non ce l'ho più e vediamo. Nei primi dieci giorni di marzo le fiamme gialle del comando provinciale di Pesaro hanno intensificato i controlli con lo schieramento di decine di finanzieri di tutti i reparti supportati da aliquote di personale specializzato antiterrorismo pronto impiego e dai baschi verdi di Ancona. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 400 persone e controllati quasi 300 veicoli e 14 distributori stradali. I finanzieri hanno elevato 15 violazioni al codice della strada ed hanno sottoposto a sequestro 3 grammi di marijuana e 15 di hashish anche grazie all'ausilio dei cani antidroga. Un soggetto è stato denunciato dalla Procura della Repubblica mentre altre 4 persone sono state segnalate per consumo di sostanze stupefacenti. Invece durante le verifiche negli esercizi pubblici un locale di ristorazione è risultato essere completamente sconosciuto al fisco e sono stati rilevati 4 lavoratori in nero. Infine in materia di scontrini e ricevute fiscali sono state riscontrate 12 irregolarità. Il recente episodio che ha visto coinvolto il preside John B. bersaglio di minacce e insulti tramite offese su chat e social network ha colpito la nostra comunità. Lo riferisce il sindaco di Fano Massimo Seri facendo una riflessione sulla gravità di questo episodio. Ad essere grave ha detto è che dietro alla denuncia di John B. le autorità competenti non siano riuscite ad avere accesso ai dati per risalire al mittente per la sua identificazione. Quanto accaduto rappresenta un attacco alla nostra libertà e una minaccia alla difesa della nostra privacy. È necessario, proseguito Seri, proporre un programma di sensibilizzazione sulla sicurezza digitale e sul rispetto online nelle scuole. Dobbiamo lavorare insieme per sviluppare protocolli capaci di rispondere prontamente a segnalazioni di abusi e violenze online. Invito tutti i cittadini a segnalare eventuali comportamenti sospetti o dannosi. E torniamo a parlare dei lavori sul lungomare di Sassonia a Fano perché Gianluca Ilari della Lega punta il dito contro il progetto che è incompatibile, ha detto, con il transito delle imbarcazioni. Quindi dovrà essere rivisto e modificato. Un progetto da modificare è una visione di insieme che non c'è. Quanto contestate la Giunta Seri in merito ai lavori di riqualificazione del lungomare di Sassonia? Ilari, che problema è emerso? È emerso un problema secondo me molto importante. Il 28 settembre del 2023 la Giunta approva il progetto definitivo del Waterfront di Sassonia. Questo progetto prevedeva la riqualificazione dell'Anfiteatro Rastat, già discussa ma non è questo il tema, unitamente al rifacimento di quel tratto di Viale Battisti che va da Viale Dante Alighieri a Viale Adriatico. Qui era previsto una modifica totale dell'area. La strada a doppio senso di circolazione sarebbe stata trasformata ad una sola corsia per lasciare spazio ad un'area verde di grande pregio riqualificata con zone verdi, panchine ed una illuminazione molto pertinente al luogo. Ci siamo però resi conto che quei lavori non partivano. Abbiamo cominciato ad indagare, abbiamo scoperto che l'amministrazione non ha avuto l'ok, almeno così pare, dalle aziende che lavorano nella nautica. Quindi di fatto in quell'area le barche non possono transitare. Quindi è evidente che ci sarà un ritardo, è l'ennesima incompiuta dei lavori pubblici, che come Waterfront si limiteranno a riqualificare esclusivamente l'Anfiteatro Rastat. Nulla è dato a sapere di quando si realizzerà questa nuova opera, tenendo in considerazione che i lavori dell'ex pista de Gokart, nei quali dovrebbero passare la nuova strada delle barche, sono comunque ancora indietro. Quindi non è possibile riqualificare l'area che dicevamo prima di Viale Cesare Battisti senza aver prima riqualificato e realizzato la strada delle barche sulla pista di Gokart. È una miopia amministrativa e politica importantissima. Fano deve essere amministrata avendo una visione di insieme. Un progetto dei lavori pubblici deve tenere in considerazione chi usufruirà di quel progetto e quindi bisogna pensarci a priori. Non ci spieghiamo come sia stato possibile approvare a settembre un progetto senza avere la sicurezza matematica che fosse idoneo al transito delle imbarcazioni e ci verrebbe anche da pensare, come punto interrogativo, anche al transito degli eventuali carri di carnevale che occupano anche loro, hanno un ingombro molto importante. A Fossombrone nell'anno in corso sono previsti oltre 5 milioni di euro di investimenti pubblici e privati per concretizzare una serie di opere, dai lavori di sistemazione della scuola primaria del capoluogo, al tetto e alla facciata della Casa Museo Quadreria Cesarini, fino al ballatoio e alla cappellina del Brandani nella Corte Bassa. Verranno poi restaurate le mura storiche perimetrali e sistemato il cortile maggiore del Palazzo Ducale. Nel frattempo, come spiegato dal Vice Sindaco Michele Chiarabilli, il Comune continuerà gli interventi di manutenzione straordinaria stradale per tutelare tutta la città. Via San Gervasio, Via del Laghetto, in Santa Maria della Valle, Via San Cristoforo dei Valli e San Bartolomeo di Gaifa. Invece a Cartoceto continuano i lavori di potenziamento e ampliamento del cimitero. Dopo il completamento, lo scorso ottobre, delle opere di riordino del verde e dei percorsi esterni, è stata ultimata l'installazione della ringhiera che consente di accedere, in maggiore sicurezza, ai padiglioni sotterranei. Sono terminati anche gli interventi di ripristino delle facciate interne dei padiglioni, così come il restauro dell'intonaco e la pittura di alcuni loculi. Inoltre, verrà installata una rete ombreggiante per proteggere alcuni padiglioni e tombe di famiglia e si sta procedendo alla realizzazione di un paravento alla fine del padiglione 51 per impedire che vento e neve causino la caduta di fiori o di altri oggetti posti davanti alle lapidi. In settimana verranno avviati i lavori per la costruzione di 40 nuovi loculi. Il centro-destra ufficializza la candidatura di Marco Lanzi a sindaco di Pesaro. Il vice commissario di polizia, oggi in pensione, questa mattina ha incontrato la stampa. C'era per noi Marco Lonecro. E' Marco Lanzi, il candidato sindaco del centro-destra per la città di Pesaro. L'annuncio è arrivato lunedì tramite una nota ufficiale a firma dei quattro coordinatori regionali che compongono la coalizione. Lanzi, durante un incontro con i giornalisti, si è detto emozionato e soprattutto onorato. Oggi è veramente un giorno particolare e sono veramente emozionato. Emozionato anche perché emozionato e onorato. Perché tante persone mi hanno chiesto di scendere in campo per questa sfida, per affrontare queste elezioni in qualità di candidato sindaco. Tanti esponenti politici, locali, del centro-destra, con i quali ho condiviso tante iniziative proprio appunto sui temi legati alla sicurezza, hanno riposto la loro fiducia in me. E di questo lo ringrazio. Il segretario Siul, per uomo dello Stato, che in precedenza ha servito come vice commissario di polizia, da diverso tempo si sta interessando anche al mondo del sociale, con particolare attenzione al disagio giovanile, studiando pratiche concrete di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Da qui nasce l'idea di creare una lista civica, afferma Lanzi, piena di giovani. Una mia lista di giovani, perché voglio creare una lista di giovani. Perché io ai ragazzi dico sempre, voi non siete soltanto il nostro futuro, voi siete soprattutto il nostro presente. E io voglio creare una lista di soli ragazzi. Perché i progetti per una città vivibile per i ragazzi non devono provenire da uno come me che è il 61 anni. Devono provenire dai giovani, dai ragazzi, che sono fondamentali. E io voglio veramente dar voce, e rivolgo in questo senso un appello, a tutti quei cittadini, a tutte quelle persone, a tutte quelle associazioni che in qualche modo si sono state sentite messe da parte, che non sono mai state ascoltate, che sono state emorginate. Se volete, guardate, venite in squadra con me. Prima di creare un programma e fissare obiettivi, dice Marco Lanzi, visiterò i quartieri e parlerò con i cittadini. Abbiamo le idee veramente chiare. Io su tanti punti ho le idee chiare. Però cosa vi ho detto adesso? Condivisione e concertazione. Io prima di definire in maniera dettagliata tanti punti, su cui io sia io che tutto il centro-destra, gli sponenti politici che mi accompagneranno in questa avventura, abbiamo tutte le idee chiare. Però è chiaro che per definirli in maniera esatta, certa, io prima devo partire dall'ascolto. Girerò tutti i quartieri, parlerò con la gente. Ma questo è normale. Non possono calare tanti progetti. I progetti non devono calare dall'alto. Devono partire dalle persone. Nessun commento da parte di Lanzi sul Partito Democratico, che attualmente non ha rivelato chi tra Biancani e Vimini sarà il candidato sindaco. Io conosco sia benissimo Vimini, conosco benissimo Biancani, con il quale, guarda, Biancani è venuto anche al mio congresso, l'ultimo congresso del Sulpe. Io cercherò assolutamente, a meno che proprio non mi tirino in maniera esagerata per i capelli, io non vorrò mai fare nessuna polemica. Loro avranno il loro programma. Per me è indifferente che sia Vimini o Biancani, non mi interessa assolutamente. Però l'importante è che noi dobbiamo guardare noi stessi. Loro faranno la loro compagna elettorale, avranno i loro progetti, proporranno le loro cose. E noi seguiremo la nostra strada, anche noi proporremo i nostri progetti. Poi saranno i cittadini a scegliere quali saranno chiaramente le proposte migliori, quali saranno le persone che si sono proposte meglio, o quali saranno i contenuti che sono stati portati sui vari tavoli. Saranno poi i cittadini a scegliere. Il sindacato Trasporti Filt CGL, in una nota, denuncia ancora una volta il ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti della ditta Scoppio, che gestisce il servizio Scuolabus per diversi comuni nel territorio provinciale. Come sindacato hanno dichiarato, non appena i lavoratori ci hanno avvisato, ci siamo subito attivati richiedendo il pagamento diretto in surroga da parte dell'amministrazione comunale di Fano, ricevendo rassicurazioni verbali. I lavoratori chiedono certezza e puntualità del pagamento. Quanto ancora si può andare avanti così? E nel pomeriggio non si è fatta attendere la risposta del Comune di Fano, che ha precisato che gli stipendi di gennaio su sollecitazione del Comune, sono stati pagati nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo. Lo stesso Comune, il 6 marzo, aveva già comunicato in via formale alla ditta Scoppio l'avvio del procedimento di surroga per garantire direttamente ai lavoratori la retribuzione dovuta per la loro attività. Queste informazioni, hanno aggiunto, sono state via via comunicate alla Filt CGL e sorprende che l'odierna nota trasmessa ai mezzi di informazione non solo non menzioni le azioni già poste in essere dal Comune di Fano, ma soprattutto che venga denunciato il mancato pagamento di stipendi che invece sono stati pagati. E cambiamo argomento. Si è svolto al Tagotel di Fano il seminario di presentazione di due importanti misure di politica attiva del lavoro proposte dalla Regione Marche ad alto valore aggiunto per i giovani. Stefania Schiroli. Ricerca e innovazione per costruire futuro è il titolo del seminario che si è svolto a Fano al Tagotel dove sono state presentate da Guzzi due importanti misure di politica attiva del lavoro proposte dalla Regione Marche grazie alle risorse del PR 2021-2027 del Fondo Sociale Europeo più Marche Borsa e Ricerca e Start e Nova Giovani. Tutto questo grazie alla sinergia con il mondo delle imprese e il coinvolgimento delle università marchigiane, degli incubatori e degli acceleratori d'impresa puntando su competenze, conoscenze, ricerca e innovazione atte a creare un'occupazione qualificata ad alto valore aggiunto capace di dare nuovo futuro ai tradizionali settori produttivi regionali. La Regione Marche intende creare opportunità di occupazione rivolte ai giovani laureati e per Start e Nova Giovani e anche laureandi e supportare le loro idee imprenditoriali partendo dalle competenze scientifiche e tecnologiche acquisite nel percorso universitario dando centralità alla ricerca, alla sperimentazione e all'innovazione. Un passo in più, un progetto importantissimo soprattutto per i giovani. Sì, noi regolarmente in tutta la Regione Marche come oggi qui a Fano portiamo avanti delle attività di confronto con le imprese, con le associazioni di categoria con le persone, con i giovani con gli operatori dei nostri centri per l'impiego per portare a conoscenza nel miglior modo possibile le attività che si stanno portando avanti come assessorato alla formazione e al lavoro della Regione Marche. Presentiamo le nostre iniziative, presentiamo i nostri bandi intanto per farli conoscere ma al di là di questo è anche un modo per ascoltare ascoltare le persone, ascoltare le associazioni che spesso ci danno anche dei consigli su come poter proseguire al meglio su come poter affrontare al meglio le attività su quelle che sono le esigenze del mondo dell'impresa perché troppo spesso ci sono imprese che cercano personale e non lo trovano persone che cercano lavoro e non lo trovano vuol dire che ci sono persone in cerca di lavoro che però non hanno quella conoscenza e competenza che serve per entrare oggi nel mondo del lavoro che evolve molto rapidamente oggi il lavoro cambia continuamente all'interno delle stesse imprese anche per chi già vi lavora da tanto tempo noi cerchiamo di ascoltare nel miglior modo possibile le esigenze dell'impresa per orientare verso i giovani disoccupati le attività di formazione e innalzamento professionale e di appropriarsi di competenze che poi gli consentono di inserirsi nel mondo dell'impresa, nel mondo del lavoro oppure di autodeterminarsi con proprie attività di lavoro infatti incentiviamo molto anche la creazione di imprese a chi vuole essere sostenuto nell'aprire una propria partita e una propria attività c'è anche da dire che oggi i giovani ma anche i meno giovani sono sempre di più su internet e cercano molto lavoro su internet quando invece magari le imprese e non solo non si rivolgono più al centro per l'impiego quanto è importante anche lavorare perché i centri per l'impiego funzionino? noi su questo abbiamo portato avanti molta attività attraverso i centri per l'impiego proprio anche di innovazione mediatica ma anche il fatto di essere presenti qui oggi è un modo per favorire diciamo così la conoscenza di quanto avviene e proprio questi incontri li facciamo sui territori in tutte le province delle marche perché è vero che oggi ci sono canali del tutto inediti per diciamo così avere conoscenza delle iniziative e anche in questo senso noi stiamo investendo molto sui nostri centri per l'impiego proprio per l'innovazione tecnologica l'inalzamento delle loro attività ma anche nell'assunzione proprio di personale ha detto a far sì che le cose possono essere ben comunicate ben conosciute, ben accolte per poi avere le giuste risposte l'importanza di un seminario come questo per i giovani è importante perché qui si propongono si offrono informazioni su queste due occasioni su queste due opportunità che sono strategiche per il mondo del lavoro per inserirsi dove si unisce ricerca si uniscono borse di lavoro e si uniscono occasioni di finanziamento di start-up quindi è una grande occasione per quei giovani che hanno competenze che hanno da raccontare ma che non hanno opportunità accogliendo questa occasione si possono aprire nuove finestre quindi è un bel modo di utilizzare le risorse dell'FSE Invece nella nuova sala della cultura di Fano domenica scorsa si è parlato di evoluzione e crescita della sostenibilità nella filiera di tre formaggi DOP Casciotta d'Urbino DOP formaggio piave DOP provolone e valpadana DOP sono questi tre formaggi al centro dell'incontro che si è svolto domenica 10 marzo nella nuova sala della cultura di Fano l'evento all'interno del programma di circonomia il festival della transizione ecologica e dell'economia circolare è stato moderato dal giornalista e scrittore Alfredo Antonaros dopo i saluti dell'assessore alla cultura e all'ambiente e coraffattori è intervenuto Paolo Cesaretti coordinatore del consorzio della Casciotta d'Urbino DOP La Casciotta d'Urbino è un formaggio misto pecora quindi ha un 70% di latte ovino e un 30% di latte vaccino è un formaggio giovane di 20 giorni di stagionatura oggi abbiamo la ECIS che è l'associazione europea dell'innovazione e della sostenibilità che è un'associazione costituita tra tre consorzi tutela la Casciotta d'Urbino il provolone valpadano e il piave sono tre consorzi di medie dimensioni piccole e medie dimensioni che grazie a un finanziamento del Masaf può presentare sia le caratteristiche di sostenibilità che hanno questi formaggi sia poterli fare assaggiare direttamente ai consumatori per apprezzarne le qualità a guidare la degustazione poi è stata Anna Garavaldi del Centro Ricerche e Produzioni Animali che ha presentato agli ospiti le particolarità dei tre formaggi e li ha guidati nell'analisi sensoriale e nell'assaggio delle tre prelibatezze casearie appunto l'analisi sensoriale è uno strumento che viene utilizzato per le certificazioni deve essere effettuato in maniera rigorosa quindi con tecniche che sono normate e in ambienti idonei possiamo poi effettuare anche delle degustazioni in ambienti più conviviali come avverrà oggi che riguarderà quindi una valutazione visiva olfattiva aromatica gustativa e tattile delle tre doppe che oggi appunto sono l'oggetto della degustazione Circonomia un festival lungimirante che ha dato i suoi frutti in questa settimana ricca di eventi possiamo fare un bilancio? Il bilancio è molto positivo ci sono stati eventi molto seguiti si è creata una discussione abbiamo avuto anche la contestazione di alcuni giovani attivisti insomma ha risvegliato le coscienze e questa è la cosa importante la cosa più brutta questo mondo è l'apatia in un tema cogente e determinante come quello della transizione ecologica e dell'ambiente muoversi attivarsi è strategico l'altra cosa importante che molte aziende hanno risposto positivamente tante altre soprattutto fuori dai confini della città si sono accorte dell'evento e stanno già contattando gli organizzatori perché vogliono partecipare a una seconda edizione che va assolutamente fatta ecco che la cultura e l'ambiente sono due cose collegate e sono legate anche all'economia e allo sviluppo di un territorio perché se fatte con modo e con intelligenza le cose non sono in antitesi altro riconoscimento per Elvio Grilli il fanese si è aggiudicato il premio cultura 2023-2024 al concorso nazionale di poesia l'arte in versi la premiazione avverrà a Iesi il prossimo 22 giugno in servizio di Cristiana Guerra il dialetto possiede una forza espressiva genuina e vera con esso è più facile esprimere sentimenti emozioni o ripercorrere momenti di vita conserva la storia e la cultura della comunità che non deve andare perduta a Fano è il poeta dialettale Elvio Grilli che attraverso le sue poesie fa rivivere la lingua evoluta del dialetto Elvio lei è un divulgatore del dialetto fanese negli anni ha ricevuto tanti riconoscimenti sia da parte di Fano che fuori Fano in tutta Italia ultimamente in questi giorni ha ricevuto un importante premio di che cosa si tratta? è un premio chiamato alla cultura che viene assegnato ad una personalità nel mondo che opera nel mondo poetico e nel mio caso nel mondo dialettale io ho svolto diverse attività anche verso Senigallia anche una per la celebrazione del verdicchio a Cupra Montana oppure quando sono stato chiamato a rappresentare la provincia di Pesaro per la giornata nazionale del dialetto che si è svolta ad Ancuna e di conseguenza tutte queste attività assieme alla divulgazione del dialetto nelle scuole negli incontri per la notte dei licei oppure per tutte le altre manifestazioni tipo Maremonti che si è svolta quest'estate in diverse località di Fano l'associazione Verdevivo alla combattente al poderino oppure per la festa del mare si vede che hanno attirato l'attenzione su una tipologia di attività che tende a mantenere le nostre tradizioni e quel patrimonio chiamato immateriale del quale poi fa parte il dialetto Per lei ha assunto un grande significato una grande emozione è un onore essere premiato fuori concorso vuol dire che le persone che poi non ho una conoscenza molto profonda con le persone che mi hanno assegnato il premio ci si incontra qualche volta negli incontri poetici ma è un attestato di stima enorme nei miei confronti nel futuro di Elvio che cosa c'è? c'è un lavoro teatrale che andrà in scena il 18 e il 19 marzo alla chiesa del gonfalone a Fano ed è un lavoro totalmente a scopo benefico a favore della Damo grazie alla Fondazione Carifano che ha stampato il testo devo dire che mi accompagno in questo viaggio ipotetico sulle mie poesie attori dialettali molto conosciuti i quali Massimo Gasperini Paolo Parenti Florindo Piccini Costanza De Sandis e Paola Maggi oltre al regista che a tutti noto Claudio Pacifici un istrione un poeta egli stesso che ha dato un suo tocco alla regia anche io sono in scena mi raccomando venite numerosi il 18 e il 19 marzo perché è un lavoro che va totalmente a beneficio della Damo e quindi a scopo benefico e come ogni martedì sera torna su Fano TV Sportissimo sentiamo allora da Andrea Maduzzi chi sono gli ospiti di questa sera Capitano dell'Alma Juventus Fano Gianluca Urbinati ospite d'apertura della puntata di stasera di Sportissimo a seguire Laura Zachilli allenatrice dell'Aurora Fano e la ginnasta Giulia della Felice protagoniste del campionato di Serie A 1 di ginnastica ritmica ma anche un altro campione del mondo Jordan Valdinocci numero uno della disciplina in campo mondiale della kickboxing a tra poco Ed è tutto per questa edizione del telegiornale tra poco le previsioni del tempo e a seguire una nuova puntata di Sportissimo questa sera vi salutiamo con una foto dedicata al tennista pesarese di 20 anni Luca Nardi che al torneo di Indian Wells ha compiuto un'impresa memorabile battendo in 3-7 il numero uno del mondo Djokovic grazie per averci seguito io vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV un buon proseguimento 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 un buon proseguimento